Salve a tutti, qui di Woos che vi parla e vi dà il benvenuto a questo primo unboxing che porto sul canale. Come potete vedere ho in mano la Collector Edition di Ombre dal Profondo, che mi è stata gentilmente omaggiata da Bungie. Non l'ho ancora veramente aperta, ovviamente so cosa c'è dentro, insomma si è vista online, però ho il piacere appunto di aprirla insieme a voi. Vediamo cosa c'è dentro qui. Eccoci qui ragazzi, come prima cosa sfiliamo se possibile la copertura. E apriamo effettivamente la nostra Collector Edition, che ha una comoda portellina. E dentro troviamo il codice per un emblema, copriamo il codice non si sa mai, codice per un emblema della Collector Edition, che chiunque la compra potrà riscattare sul proprio account. Abbiamo poi la lettera di Eris Morn, in cui ci spiega che dobbiamo combattere una nuova battaglia, con dietro la mappa della luna, della nuova mappa quindi che sarà presente anche in game. Con i punti di interesse e anche alcuni suggerimenti di Eris su dove indagare. Vediamo cosa c'è dopo. Se riesco a tirarla fuori magari. Abbiamo qui questo bellissimo scattolino di metallo, come potete vedere in tema luna e in tema età dell'oro. Vediamo di aprire il nodino. Ecco qua. E vediamo che cosa c'è dentro. Come si aprirà. Ecco qua. A mo' di cassettino. Questo lo appoggiamo un attimo qua. Allora, qua abbiamo una toppa intanto, che poi è l'emblema che regalano anche con DLC. Mettiamo qui. Poi abbiamo un altro sacchettino. Vediamo cosa ci ha regalato Bungie. Vediamo un po'. È la collanina, il pendente, con i simboli di Eris Morn. Non so, vi ricordo anche nel trailer c'era l'arma di Eris con tutti questi simboli e quindi Bungie forse più con una collina e un braccialetto. Insomma, comunque, un gioiellino a tema Eris. Non c'è altro nel sacchettino. Poi abbiamo un libro sul protocollo della Clovis Bray, con tanta bella lore, riguardo, penso, le emissioni proprio lunari di Clovis Bray durante l'età dell'oro. Si parla anche dell'anomalia, uno dei grandi misteri di Destiny, con tante belle illustrazioni. Quindi, insomma, ragazzi, qua c'è tanto di cui parlare anche poi nei video. Per gli appassionati di lore questa cosa è assolutamente oro. Vediamo anche un bel missile lunare. Appoggiamo qui anche questo. E poi abbiamo il diario, un'agenda, un diario, insomma, a tema sempre luna. Con, beh, intanto delle pagine bianche, non proprio bianche. E poi qua dovremmo avere delle cartoline, probabilmente. Gli adesivi delle cartoline, sempre a tema luna. Vediamo qua. Anzi, ecco qua. Casco. Un veicolo. E, diciamo, il cartellino promozionale della spedizione lunare, sempre ovviamente con l'emblemo. Togliamo lo scatolino e appoggiamolo qui. Che cosa abbiamo qui? Il vero pezzo forte della Collector Edition, che molti hanno già provato a risolvere, è, diciamo, il cifrario di Eris Morna. Che, girando i vari codici, si apre e dentro c'è un altro codice. Vi assicuro che è più pesante di quello che potete immaginare. Con calma cercherò di risolverlo. Molto carino anche esteticamente. È in metallo, quindi è veramente pesante. Non me lo sarei aspettato. Vediamo se c'è altro, ma sinceramente non credo. Bene, ragazzi. Che dire, una Collector Edition davvero meritevole. Ricca di contenuti pensati per gli appassionati di lore, che li soddisferanno sicuramente. E anche gli agg contenuti sono alquanto stuzzicanti. Se avevate l'intenzione di acquistare appunto la Collector, devo dire che secondo me vale l'esborso. Non è da tutti come spesa, però se avete intenzione, secondo me appunto merita. Se avete dubbi circa i contenuti, comunque scrivetemi nei commenti, che vi risponderò super volentieri. Insomma, vi dico la mia anche sulle varie cose che vi ho mostrato. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che nell'arco delle prossime settimane pubblicherò tutti i video lore relativi a Ombre dal Profondo. Tempo di giocare i contenuti e poi si comincia. Che dire, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!